Il 23 maggio del 1988 nasce a Cassino Angelo Ogbonna, uno dei difensori più talentuosi e promettenti del panorama calcistico italiano, Ogbonna fa della forza fisica e della velocità le sue doti migliori. Cresciuto nelle giovanili del Torino, proprio con il Club Granata ottiene la ribalta della Serie A e del grande calcio, fino ad arrivare alla maglia azzurra. È il 3 giugno 2011 quando Prandelli lo chiama in nazionale per la prima volta. Aquilani si è infortunato e il CT convoca Ogbonna, nonostante militi nel campionato di Serie B. Le sue qualità vanno oltre la categoria in cui gioca e così, cinque anni dopo Simone Barone, un giocatore del Toro torna a vestire l'azzurro. Il suo debutto arriva l'11 novembre di quello stesso anno, nei minuti finali dell'amichevole con la Polonia. Da allora Ogbonna ha collezionato cinque presenze con l'Italia. La sua storia azzurra è solo agli inizi.